Buonasera a tutti, ben trovati a questo appuntamento per un nuovo protagonismo dell'industria e dell'impresa orvietana, ma in generale per un nuovo protagonismo del territorio orvietano. A questo tavolo una serie di relatori, poi li conosceremo nei loro interventi. Il titolo di questo seminario è Dalla crisi al rilancio, la porta sud-ovest dell'Umbria. Un titolo che ovviamente racchiude in sé molte cose, ma racchiude soprattutto la volontà, almeno parlando nei giorni scorsi appunto con i relatori, la volontà di esercitare o dar vita a una nuova stagione a questa parte di regione, a questa parte d'Italia, che poi ovviamente se andiamo a raccontare la regione o il territorio orvietano nel suo essere appunto tale, forse stringiamo troppo i confini, soprattutto in questo mondo dove la globalizzazione, dove i confini geografici non esistono più, è chiaro che occorre immaginare questo territorio su un palcoscenico che è quello nazionale e internazionale. Non a caso a questo tavolo ci sono imprenditori orvietani, ma anche uomini e donne che, sì, magari sono orvietani, ma poi lavorano altrove. Prima di passare ai lavori del seminario, ovviamente davanti a me c'è Roberta Tardana, che è il sindaco di Orvieto, a lei il compito istituzionale del saluto, ma non soltanto un compito istituzionale, perché lo anticipo subito, è notizia di questi giorni, Orvieto per la prima volta scende sotto i 20.000 abitanti, La parola a Roberta Tardana. Che dire, sì, siamo sotto la soglia dei 20.000 abitanti, era qualcosa che temevamo, che stavamo prefigurando da tempo, perché la crisi di questo territorio ormai è una crisi che si sta consolidando giorno dopo giorno, l'abbiamo denunciato più volte, abbiamo chiesto anche un sostegno da parte degli organi regionali al tempo, ciò purtroppo non è avvenuto, siamo stati un territorio marginalizzato negli anni, in tutti gli ambiti poi che riguardano anche lo sviluppo di questa realtà. Che cosa fare? Noi ovviamente come amministrazione abbiamo messo in cima al nostro programma di governo proprio il tema della residenzialità e dello spopolamento, è un qualcosa che purtroppo ha delle influenze pesanti sul sistema economico cittadino e dobbiamo ripensare un po' l'economia di questa città, cominciando a ridiscutere con tutte le categorie economiche e sociali della città le ragioni di questa crisi, ma soprattutto le idee e le soluzioni che potremmo adottare. Come amministrazione abbiamo deciso di riaprire il QSV, perché lo riteniamo uno strumento fondamentale di condivisione e soprattutto di partecipazione. Peraltro il quadro strategico di valorizzazione del 2011 che era stato aperto dall'allora amministrazione concina con il city manager che vedo qui, Rocco Olivadesi, aveva proprio questo titolo, la porta sul doveste dell'Undia, quindi oggi ci ritroviamo dopo dieci anni a riproporre quel tema, perché evidentemente è un tema che non è mai stato discusso e affrontato fino in fondo. Abbiamo fortunatamente oggi, e ci auguriamo, una regione che ci potrà, speriamo, ridare quella spinta e quel sostegno che fino ad oggi è mancato in tutti quegli ambiti che ci riguardano direttamente, rifiuti, infrastrutture, trasporti. Abbiamo un problema che riguarda la gestione dei rifiuti che ci tocca direttamente, noi siamo una serie di impianto, un impianto che oggi ha subito il terzo abbiamento, perché c'è stata una politica dei rifiuti fondamentale da parte della regione, che ha incentrato tutto sulle riscariche, che non ha mai previsto investimenti e che deve sicuramente ripartire dal nuovo piano per cercare di chiudere il ciclo dei rifiuti e soprattutto anche determinare alcune soluzioni di investimento anche per le realtà che potrebbero sostenere. Abbiamo un tema di trasporti assolutamente che ci sta portando anche questo a uno spopolamento di una perdita di competitività, un potenziamento dei collegamenti nord-sud è uno dei temi che abbiamo posto all'attenzione dell'amministrazione regionale e dell'assessore Melasecche non appena si è insediato. Abbiamo un problema di infrastrutture, fortunatamente la complanare e i famosi fuori di baschi di cui discutiamo da anni sembrano essere ripartiti e sono stati rimessi in cima ai temi delle infrastrutture, del problema infrastrutturale di questo territorio. Quindi c'è sicuramente molto da lavorare su cui tutti noi dobbiamo fare una riflessione e certamente un pensiero positivo, quindi questo è un tavolo importante dove ci sono molti rappresentanti delle categorie economiche, c'è anche chi si occupa di gestione dei rifiuti, c'è la regione a cui noi chiediamo con forza un sostegno e soprattutto un ripensamento delle politiche regionali che coinvolga questo territorio così come merita e così come deve essere, cosa che fino ad oggi purtroppo non è avuto. Quindi io vi lascio la parola nella speranza di poter avere da voi anche dei rifiuti importanti per poter proseguire il mandato che mi è stato concesso e comunque credo che ci ritroveremo in questi tavoli e in queste discussioni che noi abbiamo deciso di riaprire perché c'è la necessità proprio di ragionare insieme su quali possono essere le soluzioni o quantomeno le vie da intraprendere per riportare questo territorio ad un livello sicuramente più alto e più positivo di quanto non lo è stato fino ad oggi. Quindi grazie. A questo punto la parola subito al Presidente di Confindustria Sezionale Orvieto, il Dottor Francesco Lanzi. Un saluto a tutti voi che siete intervenuti, un saluto alle autorità presenti, grazie al sindaco, grazie infinito all'assessore della Secchi che ci è venuto a trovare e in un momento come questo apprezziamo ancora di più lo sforzo perché onestamente le istituzioni in questo momento sono chiamate a risolvere problemi molto importanti e anche per quello li ringraziamo. Lo sforzo deve essere unico, unitario e tutti quanti dobbiamo rimanere dalla stessa parte. Questo è un momento in cui si vede la forza di un Paese, io credo che noi ce l'abbiamo tutta, sia a livello sanitario che a livello umano. Detto questo, grazie, grazie a essere intervenuti, vi vedo una bella platea, sono veramente contento. Questo è un incontro che è nato un po' così per caso. Paolo Di Amici, ci siamo visti, abbiamo parlato di alcune cose. Confindustria, la territoriale di Orpidato di Confindustria è ormai da qualche tempo che ha preso questa linea di andare a sensibilizzare un po' la politica, la società civile, i dipenditori stessi, su alcune tematiche importanti per il nostro territorio. Orvieto ha una centralità e lo voglio dire in maniera importante, Orvieto ha una centralità per questo territorio anche oltre i confini geografici, ha una centralità che le assegna alla storia. Questa centralità va ripresa. Oggi siamo in un momento in cui è chiaramente ancora più difficile, perché veniamo da dieci anni di crisi clamorosa a livello mondiale economico, è come se ci fosse stata una guerra mondiale durata a dodici anni. Quindi è chiaro che l'impegno da parte di tutte deve essere ancora doppio. Ringraziando Dio, non ci facciamo mancare niente, perché non ci succede qualche cosa, quindi è chiaro che dobbiamo essere ancora più forti. Però lo siamo forti, siamo ottimisti, perché altrimenti faremo un altro mestiere. E poi voglio dire anche un'ultimissima cosa. Le tematiche che trattiamo questa sera sono solo alcune delle tematiche importanti per questi territori. Parleremo anche di altri. Oggi abbiamo messo a sistema insieme la crisi demografica e ringrazio la dottoressa Di Palvera di essere qui con grande sacrificio, anche lei, quindi ringrazio personalmente perché mi ha fatto enormemente piacere. La crisi demografica, il sindaco come fa ci ha detto che siamo scesi da poco sotto i 20 mila abitanti, questo avrà una ricaduta importantissima in tantissime situazioni, per cui da lì dobbiamo ripartire. I giovani devono rimanere qua, noi dobbiamo mettere a disposizione le nostre aziende per farli lavorare, per ripartire, per andare a cercare quella economia che c'è e che aspetta soltanto aziende che abbiano un po' di visione per andare a fare reddito. Non è impossibile, siamo ottimisti, è così. Le aziende che hanno sopportato questi 10 anni in crisi e che ancora oggi stanno sul territorio a creare occupazione, a creare reddito, hanno un valore aggiunto che devono mettere a disposizione del territorio, perché l'azienda e l'imprenditore hanno anche un obbligo sociale. Parleremo chiaramente di infrastrutture, quindi la firma dell'accordo sulla comprenore su fuori di Baschi è per noi determinante, siamo un territorio che ha la zona industriale a nord e il casello autostrada a sud, per cui è chiaro che questo porta a delle dinamiche che creano degli scompensi per gli abitanti dei centri abitati, per le aziende che devono sopportare il traffico delle ore di punta e quindi devono aspettare che arrivi e rientrino il camion, quindi è un problema per tutti. Quel tratto di complanare, lo dico forte, è determinante per ripartire, senza di quello non andiamo a nessuna parte. I fuori di Baschi, di cosa vogliamo parlare? I fuori di Baschi sono il nostro accesso all'orientatorio, là dentro si incastrano mediamente 5-6 autotreni al giorno. Chiunque voglia venire qui a fare un investimento e dovesse scendere da Perugia evidentemente si troverebbe lì con un coglio di bottiglia che dice ma io qua mi sa che qui ci vengo. Però noi abbiamo, cosa che in Umbia non ha nessun altro, ma quasi nessun altro sono attività, noi abbiamo una porta autostradale e abbiamo il tratto della ferrovia e della ferrovisità. Cosa serve? Assessore, servono i soldi, io ho detto prima, servono i soldi. Non dalla regione, dallo Stato, dalla comunità europea, andiamo a cercare di farci dare tre punti di debito in più e facciamocelo dare. Bisogna che noi troviamo una scossa economica a questa nazione, a questa regione, a questo territorio per tutti, è fondamentale, se non andiamo a nessuna parte. Il tema dei rifiuti è un tema più pratico a fare, il suo obiettivo è determinante ma va visto in un'altra ottica, il tema dei rifiuti di no, l'economia circolare, il ciclo chiuso dei rifiuti, le energie rinnovabili, ma qui c'è l'economia, c'è un pezzo del valore aggiunto dei nostri territori, la potenzialità di fare del reddito da quello che oggi è un problema. Ma ne vogliamo parlare? Sì, ne vogliamo parlare, siamo qui apposta. Grazie a tutti, lascio la parola a loro. Grazie. Il compito della ricerca è quello di analizzare, dare impressioni e focalizzare quelli che sono i problemi, poi il compito di qualcun altro è quello di individuare gli interventi da mettere in pratica. Generalmente prima di andare in qualsiasi conferenza mando delle slide per evitare poi a chi organizza le conferenze, per evitare che poi quando arrivo mi si dica che i risultati che comunico sono estremamente negativi. Ho già appena arrivata, chi ha letto le slide mi ha detto ma porti queste cattive notizie? Purtroppo sì. Purtroppo sì. Allora, partiamo oggi, parlerò di democrazia, come abbiamo detto, è anche parte di quelli che sono i redditi del territorio dell'Orvietano. Allora, questa mappa è la mappa che abbiamo presentato nella presentazione del rapporto economico e sociale che l'Agenzia Ombra e Ricerche fa ogni anno per la giunta regionale. Questa mappa è il risultato di un indice sullo stato di salute demografica di tutti quanti i comuni umbri. Questo indice è un indice composito, non so che raccontarvi tutta la metodologia, ma che è stato mutuato dall'Università di Cagliari, dove c'è già una lunga expertise nello studio di quelli che sono i fenomeni della deprivazione. loro hanno un indice che si chiama Indice di deprivazione multipla della Sardegna, che è un progetto addirittura cofinanziato dal PORFES del 2017-2013, che mira a studiare quelli che sono i fenomeni dello spopolamento e dell'invecchiamento dei comuni sardi. Loro hanno questo problema da molto prima di noi e quindi hanno messo in campo un vero e proprio osservatorio per individuare le diverse determinanti e variabili che vanno a interferire su questo fenomeno dello spopolamento. Ho mutuato questo indice sullo spopolamento, non tutto l'indice di deprivazione perché quello è molto complicato e ci vuole del tempo, e l'ho replicato per l'Umbria. Questo indice prende in considerazione non solamente le variazioni della popolazione dell'ultimo anno, ma negli anni che vanno da 1951 fino agli anni recenti, prende in considerazione bisogno di spopolamento e lo spopolamento, prende in considerazione anche quella che è la struttura demografica, perché in realtà incide non solamente la riduzione della popolazione, ma anche come è composta questa popolazione, perché ovviamente se abbiamo una popolazione costituita principalmente da anziani, è molto probabile che quella popolazione possa più crescere naturalmente, fondamentalmente, e con tutti i vari problemi di una popolazione che tende ad invecchiarsi. Sappiamo che l'indice di vecchiaia ha elevato, rappresenta un grosso debito di una popolazione nei confronti di quelli che sono i giovani, perché avremo sicuramente con una popolazione anziana problemi non solamente, che riguardano la forza lavorativa, credi almeno, soprattutto la forza lavorativa, magari i giovani che è quella più innovativa, quella che potrebbe dare un maggiore valore aggiunto, ma si cambia tutta quanta quella che è una struttura in un certo territorio perché nascono diverse esigenze, pensiamo a tutto quello che è la sanità, welfare, pensioni e tutto il resto. Da questo indicatore esce fuori che, questa è la mappa, come vedete, i comuni umbri che godono di buona salute sono principalmente quelli del Perugino e della Pascia che arriva fino al Folignate. I comuni che si trovano in situazioni precari e gravi, da attenzionare anche i comuni che si trovano in situazioni precari, perché lo svizzamento verso situazioni grave, dalla quale poi è difficilissimo riuscire a breve, sono prevalentemente quelli che coincidono con quelle che sono le aree interne, i territori che beneficiano di quelli che sono le strategie nazionali alle aree interne, cioè la fascia, tutta l'area dell'Orvietano, quindi l'area interna sul dovest dell'Orvietano, quella della Valnerina e parte per l'appunto di quella della fascia attenuita. appartene, questa mappa ci dà un po' un'idea di quella che è i comuni, le aree della restanza e quelle dell'abbandono. Appartene per l'appunto all'area del disagio demografico, interessa il 44,6% dei comuni umbri, dove disiede il 14% della popolazione umbria e riguarda il 37% della popolazione regionale. Da notare che il 71% dei comuni che hanno una salute di salute grave o precario è proprio quello che appartiene alla SNAI, che riguarda il finanziamento della SNAI. Ora, se noi facciamo ricadimento alla nostra area, che è quella di interesse là, abbiamo che dei vitti comuni considerati nell'area interna sul dovest dell'Orvietano il 65% si trova in condizioni gravi o precarie. Che significa questo? Da cosa dipende questo anzi. Ultimamente tutti avrete letto i comunicati in Istat sul rapporto democratico e cose varie dove si grida attenzione, attenzione, l'Italia per il terzo anno che si trova con una contrazione della popolazione, ha perso abitanti pari a 637 mila residenti, ossia l'equivalente di una città come Palermo. Allora, che cosa succede all'Umbria? Vediamo cosa succede all'Umbria. All'Umbria succede che si perde una popolazione pari a 13 mila residenti. Allora, la riduzione dell'Italia parte dal 2014 fino al 2018, precedentemente c'era una crescita. Anche in Umbria la riduzione parte dal 2014 fino al 2018 si perdono 13 mila residenti. La contrazione totale di periodo, se in Italia questa ultima contrazione di questi 4 anni non va a incidere sulla crescita precedente, quindi nel tutto il periodo abbiamo comunque una crescita. In Umbria invece la contrazione degli anni recenti va a vanificare la crescita precedente al censimento e quindi si ha una contrazione. La situazione per l'area interna sud-oest e per il comune di Orvieto, come vedete, è ben più grave. In Umbria perdiamo 13 mila residenti che sono circa un comune poco più grande di Amelio e proprio piccolo di maggione e per noi non è poco perché considerando il 66% dei comuni umidi e sotto i 5 mila abitanti, quindi stiamo parlando di un fenomeno che non è così poco di rilievo. Perché succede questo? Non vi sto a dare tutti questi numeri, ma è semplicemente per fare capire quali sono le determinanti di questo fenomeno dello spopolamento. Allora, non cresciamo più da un punto di vista per dinamiche naturali, per il tasso di crescita naturale in Umbria ormai dal 1979. Il nostro tasso di crescita naturale è andato sotto lo zero dal 1979, in Italia dal 1994. Che succede? Abbiamo un tasso di pecondità che come vedete colappicco in Italia, ma soprattutto in Umbria. considerate che per il tasso di crescita l'Umbria è quindicesima sulle 20 regioni, il tasso di crescita naturale. Per il tasso di fecondità siamo quattordicesimi su 20. Per la speranza di vita invece noi viviamo molto. Siamo la seconda regione in Italia per speranza di vita alla nascita. Quindi prima di noi c'è solo il 39A, dice questa è una buona cosa, viviamo moltissimo e infatti abbiamo 3.000 vado, 11 di vecchiaia. Viviamo moltissimo, non facciamo figli e quindi siamo molto, molto vecchi. Considerate che se la media italiana al 2019 è 173 anziani ogni 100 bambini, in un mene abbiamo ben 204. E che succede all'area del sud-ovest di Orvietana? Ecco questo succede. Il tasso di vecchiaia, questi sono tutti quanti i comuni che appartengono all'area interna sud-ovest di Orvietano e la media è 256. Allora, l'Umbria è tra le regioni più vecchie d'Italia, l'area interna sud-ovest di Orvietano è ancora più vecchia dell'Umbria. Ci sono comuni come Parrano dove ci sono 476 anziani ogni 100 bambini. Fa bene Attiliano invece che è l'unico comune ad avere uno stato di salute buona, riprendendo la mappa iniziale, è infatti l'unico comune che ha un tasso, un indice di vecchiaia inferiore non solo alla media della nostra area ma anche a quella ultra. Questo è quello che riguarda la demografia. Ora faccio una piccola carrellata sui redditi e poi concludo il mio intervento e lascio altre considerazioni. Mi è stato chiesto di poter dare qualche indicazione su quello che è il prodotto interno lordo di questa area. Ora il prodotto interno lordo a livello subregionale non è stimabile, abbiamo difficoltà anche ad averlo a livello regionale. Quindi ho utilizzato una grandezza, quella che è il reddito, il reddito complessivo che viene dichiarato ai fini della dizionale IRPEF perché ci dà un'indicazione di quello che è il potenziale reddito che si può spendere su un'area. Ora ovvio questo non è quello che viene prodotto da questa area perché è quello che viene dichiarato da residenti. Quindi i residenti potrebbero anche avere questi redditi dai lavori che vengono da fuori i confini. Però rappresenta sicuramente il potenziale reddito per il consumo, la possibile spesa che i residenti potrebbero avere. Innanzitutto cerchiamo di capire di quali dimensioni stiamo parlando. Qua ho riportato senza che sto a far vedere, senza che sto a dare l'elenco di quanti numeri, tre variabili che sono i contribuenti sulla popolazione, i contribuenti versanti, i contribuenti versanti e i contribuenti versanti sulla popolazione. Perché? Ma il numero di contribuenti non necessariamente al numero di contribuenti versanti perché ci sono alcune dichiarazioni fiscali che sono pari a zero che devono essere presentate e quindi non ci dà indicazione di quello che è in realtà i contribuenti che versano. Ora cosa accade? Accade che a Orvieto e nell'area sud-ovest dell'orvietano, la percentuale di contribuenti versanti sulla popolazione è notevolmente superiore a quella media ombra e anche a quella italiana. Quindi non in realtà paghiamo più tasse, cioè non paghiamo più tasse, ci sono più persone che pagano il terzo, che dichiarano quindi. Questo è per dare tanto per capire di cosa stiamo parlando. Qua ho riportato per Orvieto, area sud-ovest dell'orvietano, Umbria e Italia, il reddito medio e il reddito mediano, i redditi che utilizziamo sono quelli dichiarati nel 2018, quindi fanno riferimento all'anno di imposta 2017. E ho calcolato anche l'indice di Gini. Perché il reddito medio e il reddito mediano? Nella maggior parte di casi si parla di reddito medio. Ora, utilizzare il reddito medio non è proprio una cosa molto saggia, perché il reddito medio, sappiamo tutti il dilemma dei trepulli fondamentalmente, nel senso che se c'è qualcuno che ha un reddito molto alto, il reddito medio tende per l'appunto a aumentare, anche se magari la maggior parte delle persone non hanno quel reddito. Il reddito mediano invece è una media più di posizione, non risente per l'appunto dei valori agli estremi e quindi dà un'indicazione di quello che è di quello che è il reddito percepito dalla maggior parte della popolazione, rappresenta in effetti il reddito entro il quale sta il 50% della popolazione. Ora, cosa accade in questo caso? Abbiamo, per ovviato ad esempio, che il reddito medio è maggiore non solo di quello dell'area interna, ma anche di quello ombro e si attesta quasi a quello italiano, il reddito medio. Il reddito mediano invece è inferiore, anche se di poco, sia quello ombro che a quello italiano. Il reddito medio dell'area interna, il reddito mediano sono sempre nettamente inferiori a tutte le altre ripartizioni geografiche che abbiamo preso in considerazione. Ora, questa discrepanza tra il reddito medio e il reddito mediano avviene generalmente quando c'è una concentrazione di redditi in testa a alcune persone. Quindi non c'è una distribuzione omogenea, non c'è un'eguaglianza distributiva, ma c'è delle sperequazioni. E questo ci viene confermato anche dagli indici di Gini. L'indice di Gini che varia tra 0 e 1 è pari a 0 quando tutti i soggetti hanno lo stesso reddito. È pari a 1 quando tutto il reddito è in testa di una persona. Ora, come vediamo, l'indice di Gini per Orvieto è maggiore rispetto a tutte le altre ripartizioni. Questo ha a denotare che vi è a Orvieto una certa diseguaglianza, una certa concentrazione di redditi. Questo fenomeno, devo essere sincera, io studio i redditi dell'area dell'Orvietano ormai da anni, perché faccio parte, ho sempre fatto parte di quello che era il team che si occupa del bollettino economico e sociale dell'Orvietano, che è a cura del centro studi su Commissione del Comune. Questa peculiarità, di questa maggiore concentrazione di Orvieto, avveniva già nel 2008, nel 2007, quindi è un fenomeno che si ripete. Io non so se questi redditi maggiori che vanno a far crescere il reddito medio dipendano da redditi, ad esempio, percepiti da molti pendolari che vanno sull'altra regione e magari hanno redditi duali, se ci siano in realtà a Orvieto grandi imprenditori, oppure se ci siano dei redditi fondiari, dei redditi che derivano da altre tipologie. È un fenomeno che avrei sempre voluto cercare di analizzare meglio, ma purtroppo gli open data forniti dal MEF non consentono di fare questa tipologia di analisi. Ora, questa è semplicemente per farvi vedere qual è la situazione in tutti i comuni dell'area sud-ovest dell'Orvietano. Avete i comuni ordinati in ordine decrescente in base al reddito medio e mediano. Quindi possiamo vedere che ci sono delle discrepanze notevoli tra Orvieto, ad esempio, con il reddito medio di 20.044 euro anni e il comune di Lignan-Teverina che ne ha 15.000. 5.000 euro non sono cosa da poco, insomma. Gli dema per il reddito medio. Qui abbiamo i redditi calcolati a 2017 e raccontati con quelli del 2016, medio, mediano e indice di Gini. Cosa esce fuori? Esce fuori che i redditi sia mediano e mediano si riducono ovunque nelle aree considerate, ma le maggiori contrazioni si verificano nell'ordine Orvieto, area interna sud-ovest dell'Orvietano, Umbria e poi Italia. E invece l'indice di concentrazione aumenta di più a Orvieto, poi nell'area interna sud-ovest dell'Orvietano, quindi nell'Umbria e quindi nell'Italia. Quindi a dimostrare che c'è una riduzione dei redditi, ma c'è anche una maggiore sperequazione nella redistribuzione del reddito interno. Chiudo con quello che vorrebbe essere, che potrebbe essere un'ottore pista di ricerca che potrebbe aiutare per poter individuare i modelli, per poter cercare di capire come ripopolare, perché è ovvio che in un paese dove non si percepiscono i redditi il lavoro è fondamentale. Dove non ci sono i redditi, dove non si riesce a vivere in maniera adeguata, a un certo livello di benessere, è difficile starci. Insomma, chiunque va a vivere dove riesce a guadagnare, dove riesce ad avere i servizi opportuni per vivere, dove riesce ad avere quello che vuole star meglio. Allora, quello che si potrebbe fare, che ad esempio il progetto Indice di produzione multipla della Sardegna fa, è quello di intersecare le variabili demografiche con altre variabili, che sono, per l'appunto, variabili di tipologizzazione di servizi, rete commerciali, che sono ad esempio le strutture produttive dei comuni. Cioè, intersecare queste cose per mettere insieme diverse informazioni. Ad esempio, il primo esercizio che ho fatto era quello di valutare la correlazione esistente tra lo stato di salute di tutti i comuni, tutti i comuni Umbri, e il reddito impolibili che è lo stato di salute, sembra essere positivamente correlato con il reddito. Laddove i redditi sono più aspi, c'è uno stato di salute demografica maggiore, cioè c'è un vero spopolamento. Idem quello che riguarda, ad esempio, le imprese e gli addetti alle imprese. I comuni che hanno un buono stato di salute hanno maggiori quantità di imprese e maggiori addetti alle imprese. C'è questa correlazione. Quindi bisognerebbe capire, effettuando, analizzando tutte queste variabili, le diversità di ogni territorio, che è quello che io ritengo sicuramente necessario affinché si possa ridare vita economica e anche crescita non solo democratica ma anche economica, è quello di individuare le particolarità e fare interventi che non siano tutti quanti uguali, ma che siano mirati in base a quelle che sono le caratteristiche di ogni zona. È necessario, perché non si può dare la stessa medicina a ogni paziente. Ogni paziente ha un quadro e quindi quel quadro deve emergere per poter intervenire nel modo migliore. questo è un paradiso del resto. Guardate su. Questa è una pioggia di meteoriti di prosciutto buono. Devo dirvi che fa abbastanza impressione vedere tanti prosciutti così interi. Se entri da Lattanzi non ne esci più. Tra profumi e sapori, tra salsicce e porchette, tra coppiette e salami, ci ritornerai con la persona che ami. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com 13, 14, 15, 16, 16, 16, 18, 19, 20, 21, metto una in più, va bene? 3 kg, vedi dai, dai. Guarda un po' quant'è questa. 3 kg e 100 topat. La salsiccia va come il vento. 3 kg di salsiccia. 3 kg hai detto? Eh? 30 salsicci. 3 kg, vedi dai, dai, dai. Venite con me, io prima di comprare qualcosa, il maiale soprattutto, voglio che sia italiano, allora vengo qua all'antica Norcineria Lattanzi Franco e guarda, guarda, non le comprereste tutte? Mamma mia, è che mi fa un po' male al fegato, dopo un po', però tutta questa fila se può fare, come si dice a Roma, se può fare. Oh, senza conservanti, senza coloranti, senza glutine, senza lattosio, da chi? Da lattanzi, tutta l'opera italiana, tutte.